che sbatte su quel nastro Erwin Gapet, Bruno, prova Giulio Sabbia, pareggiare le situazioni prova a volare Grepennikov il punto per Modena ancora polemiche, attenzione attenzione c'è un problema, perché una ragazzina una ragazzina, poverina ha preso il pallone giustamente, l'enfasi, ecco la rivediamo, e quindi volevano ovviamente Erwin Gapet chiede il giallo, far continuare quella palla si tanto difesa dà paura da parte di Grepennikov guarda sul cover, vediamo un po' che prova ad andare ragazzina che blocca il pallone il modello Lapo, Elkan ciasi tipo ovviamente di situazione eccolo qua, guarda un po' questa situazione perché rinizia il match la povera bambina che prende la palla con Giri Kovar che era lì pronto a rimettere il gioco la stava andando a prendere è bellissimo perché Grepennikov che è meraviglioso è meraviglioso